Dopo il successo riscosso dal concerto del primo maggio che ha visto protagonisti Morgane e Dendi a Chieti per le celebrazioni in onore di San Giustino, il santo patrono della città, domani sera alla Villa Comunale arriverà il cantautore Michele Zarrillo. L'amministrazione comunale guarda la prossima stagione estiva, l'insegna di grandi nomi, come conferma il vice sindaco con delega alla cultura e turismo Paolo De Cesare. Ci tenevamo, oltre ad aver programmato un grandissimo cartellone per il maggio teatino, inaugurato con il concertone d'Abruzzo appunto del primo maggio con l'esibizione di Morgane e Dendi, a tornare a celebrare anche adeguatamente le festività in onore del nostro santo patrono San Giustino. E lo faremo con un programma variegato per tanti tipi di pubblico e soprattutto per tutti i nostri cittadini, dai più piccoli, quindi ci sarà un villaggio per i bambini sia a Piazza Vico che a Largo Martiri della Libertà con dei gonfiabili, musica d'ascolto di grandi musicisti dell'Accademia del Maestro Giuliano Mazzoccante, itineranti lungo Corso Marrucino, un DJ set anche per dei giovani con Arturo Capone e con un DJ di richiamo che è calabrese alla Villa Comunale, e poi ci sarà Michele Zarrillo nella bellissima cornice della Villa Comunale in un concerto acustico. Il Teatro Marrucino, oltre allo straordinario successo che sta avendo in tutta la sua stagione, dalla lirica alla prosa, al teatro ragazzi, al dialettale, all'operetta, a tutta quella che la programmazione ha deciso, sul mio impulso e sul mio indirizzo, di uscire fuori dal perimetro delle mura del Marrucino e così siamo riusciti a ottenere, cosa che non si era mai verificata prima in maniera strutturale e per una durata triennale, di stipulare un accordo con la direzione regionale dei musei per la valorizzazione del parco archeologico della Civitella, sia per l'anfiteatro L'Arena e sia per il cosiddetto stellario. Quindi torneremo a fare intrattenimento con discoteca allo stellario e grandi concerti e grandi eventi all'Arena. I nomi, alcuni sono già usciti, che abbiamo fortemente voluto, chiaramente in accordo con degli impresari locali, sono quelli di Venditti e De Gregori, per questo tour unico che si terrà quest'anno in Italia, così come LP, un artista internazionale, ma poi ci sarà il comico Maurizio Battista, si sta lavorando per un grandissimo nome i primi di settembre, così come per l'intrattenimento si parla anche già di grandi DJ, come DJ Harvey e tanti altri DJ che ci saranno sia in luglio che in agosto.